Salgono a tre le destinazioni raggiungibili dall'aeroporto di Pescara con il vettore Volotea. Oltre a Catania, che da maggio ad oggi ha registrato circa 10.000 passeggeri, si aggiungono Palermo e Cagliari. I voli avranno frequenza di due volte alla settimana, ogni lunedì e venerdì, e il volo per Palermo partirà da aprile, mentre quello per Cagliari partirà da giugno. Biglietti che sono già in vendita. Esattamente, i biglietti sono in vendita da oggi, con tariffe a partire da 19 euro, a tratta tasse aeroportuali incluse, quindi siamo felici di poter annunciare questa crescita presso l'aeroporto di Pescara, dove quest'anno avevamo in vendita oltre 16.000 posti, l'anno prossimo avremo in vendita oltre 60.000 posti, quindi una grande crescita. L'obiettivo è di continuare a rimanere, di consolidare il nostro prodotto. Quest'anno siamo partiti con i voli pieni, con un tasso di riempimento del 95%, ci auguriamo che anche le nuove destinazioni abbiano lo stesso successo. Enrico Paolini, presidente della Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo, si dice soddisfatto della collaborazione con la compagnia Volotea, che sta potenziando lo scalo abruzzese e parla del futuro dell'aeroporto. Lei prima, facendo una battuta, ha lanciato l'idea di New York, che poi non è un'idea nuova. La mia idea è che un passeggioro abruzzese, o comunque che parte dall'aeroporto d'Abruzzo, magari ripenendo da Ascoli o da Foggia, possa mettere i bagagli su un aereo, e poi magari anche con una sosta di mezz'ora a Bologna, a Parigi o a Londra, possa arrivare senza scendere i bagagli, con un solo biglietto a New York, a Toronto o perché no in altri posti del mondo. Questo fa la reputazione di un aeroporto, non è soltanto un problema di numero di passeggeri. Entro Natale sarà pronto l'aeroporto? Sì, noi pensiamo di concludere, se non tutti i lavori, quasi tutti per il 15 dicembre e nel frattempo di aprire sicuramente la Business Lunch prima della fine di novembre e probabilmente alcuni dei nuovi impegni commerciali dei box entro Natale. Presto, nell'aeroporto d'Abruzzo, ci sarà anche uno spazio informativo della regione. L'assessore D'Ignazio ci spiega il perché. Apriremo questo box proprio a metà, tra le partenze e gli arrivi. Sarà centrale, sarà sia verso l'interno dell'aeroporto, sia verso l'esterno, verso l'antistante di parcheggio, da dare proprio l'immagine vera della nostra regione. Stiamo dando anche un'immagine nuova dell'aeroporto, più bello, più elegante. Si pone a breve, ci saranno anche una nuova sala che verrà inaugurata. Insomma, arrivare e vivere il nostro aeroporto. Grazie.